allora funziona ripeto la domanda come stai oggi oggi molto bella fa il tempo bellissimo lo sai bene che sia la domenica e 21 salsi adesso mi sento molto molto energico adesso mi sento il pieno di energia mi sento molto bello molto molto buono bene bello tutto quasi come un italiano mi sento adesso molto lassante sul mio divano anche ci siamo adesso qui nel mio salone con tutte uccellini papagallini piccoli sempre sempre faccio una chiacchierata sarà di loro ma mi piacciono moltissimo si adoro adoro queste quelle uccellini sempre suonano sempre mi piacciono moltissimo si mi piace mi piace mi piace curarmi animali domestici anche cani gattini uccellini tutto a posto tutto qui adesso parliamo qui da me è pasqua allora si per te è buon pasqua per te scusami dimenticato questo speciale giornata per voi per ortodossi e scusami anche buona pasqua per tutti gli ortodossi e vivono nel serbia nei altri paesi grazie mille oggi abbiamo pintato le uova e voglio farti vedere guarda colorati si e colorate e anche per colazione quasi come in turchia un po di tutto sì perché guarda abbiamo poco caccia questo sai come un turco bravo sai cosa è qui abbiamo carne e abbiamo un formaggio qui poi abbiamo qui abbiamo anche formaggio qualche crema di latte sulla parte la contraria abbiamo un prodotto dei peperoni piatti tipici di serbia diciamo così e poi abbiamo carne e questa volta di maiale qui questo è qualcosa che tu non puoi mangiare avete fatto questo tipice piatti per pasqua specialmente in questi giorni avete fatto questo tipici di solito di solito prepariamo così molto per i comprani per questo qualcosa così e e alla fine abbiamo qualche pasta e quasi come burrek quasi e qui adoro adoro la burrek un'insalata francese anche questo giallo e un'insalata francese sembrano tutte buonissime anche adesso ho fatto in colazione e la prima volta in questo anno nella verenda si è anche balcone ho mangiato qualcosa nella mia balcone anche e poi sono uscito qui dal mio giardino fa due passi con se un tasso di tè bevendo il tè ho fatto un piccolo giro intorno nella mia giardino e anche ho fatto un po stretching perché mi sono mi sento adesso molto molto energico a causa della temperatura secondo me perché la prima volta prima volta qui si stanno allungato le giornate piano piano e anche oggi e oggi è pasqua da giornata per voi a imparare tutti e tutti ortodossi e si è molto molto bella sono qui stiamo parlando un po di te un po più parliamo di circostanza come come e non ti ho detto che per esempio noi quando alziamo ovviamente prima che facciamo diciamo buona pasqua ma nel modo tradizionale qui da serbia e poi cosa facciamo beviamo il caffè e dopo si prendiamo le uova io prendo una uova scelgo una uova mia madre per esempio sceglie un'altra uova allora cosa succede se per esempio facciamo prima così e poi con le uova e poi altra parte così per esempio se la mia madre ha non ha vinto se ha perso allora lei mi deve dare questo uovo ed io questa decorazione questo togo e mangio questo uovo qua quale di questi queste uovo sarà rotto sì sì se per esempio io sono stata capace di vincere e se l'uovo è rotto da parte di mia madre mia madre mi deve dare questo uovo suo cioè perché lei ha perso e allora io ho vinto a mia madre e a mio fratello allora ho mangiato due uova ok è una domanda faccio una domanda scusa per esempio come come avete fatto questo uovo colorate esiste un metodo speciale esiste un metodo un motivo speciale per voi e diciamo che possiamo fare con con le uova scusa con con i colori che abbiamo comprato e nel mercato e allora su questo diciamo una cartolina e dove tutto e tutto è messo ma e allora su questa cartolina c'è scritto come si prepara come si dipingono le uova si ma se vogliamo fare nel modo naturale possiamo utilizzare la cipolla per questo oppure possiamo utilizzare il vino tinto e scusa il vino rosso possiamo utilizzare per questo allora tutto dipende chi preferisce la mia famiglia di solito utilizza la cipolla ed anche per decorazione a volte utilizza i fiori di natura per esempio fate modelli o disegni speciali sulle uova si fate i modelli disegni si è molto molto bella molto bella secondo me bellissima ecco volevo volevo ecco condividere questo con te perché so che in turchia qualcosa come così non c'è mi dispiace si lo so lo sai bene che si ma potrebbe essere che questo un evento speciale parte soprattutto pasqua e per esempio siete siete andato siete andato la chiesa per questo evento speciale certo ma per causa di coronavirus certo scusami ho dimenticato questo cattivo problema in tutto il mondo non faccio dire niente non faccio dire nulla su questo problema adesso sì siamo tutti tutti siamo tutti siamo tutti non importa non importa come tristi vuoi dire anche preoccupati anche noiosi sì 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 ok ok let's now speak in english so tell me uh what is what is the situation like in turkey about coronavirus quindi c'è molti morti o c'è molti morti? o c'è molti morti o c'è molti morti? Sì, in Turchia. Especialmente in Turchia... What can I say? What can I say right now? I see, I'm switching my language in Italian to English, not fastly, not very well for me. But yes, for the country and Turkey suffering this chaotic problem and yes, it's caused deadly pulls and deadly tolls and we struggle now this catastrophic and terrific problem like other countries. But hopefully this problem will be destroyed. But nothing I can say right now. I don't know, hopefully everything will be better. Is Turkey still in the top ten? Yes, yes. Yes? Top ten? Probably yes, probably yes. For it, I think I'm staying at home and I'm working at home especially in this weekend. But next weekend I will go to my office for preparing some documents and confirming some documents and adjusting some documents. These days passing through like that. But this is obligatory for me. Yes. I'm still working. And one day I'm staying at my home. The other day I have to go to the office for preparing some documents. These days passing through like that. I don't like studying like that. But I have to do for other peoples living in Turkey, living in this place. Yes. 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 These days. Can people go out? Can people go out in Turkey? Is there still a panic state? No. Yes. Especially I would say that, let's say about that. And in weekends, weekdays, we have to go to work. We have to working. Especially some bus and weekdays. Okay. But weekends, it's the old state. Declarated. 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 What can I say? I can remember this name of the Kopi Foko Sokacik Mayasa. I can remember this. Sorry. Uh huh. Curfew. Yes. Curfew. Yeah. Curfew. Yes. Curfew. It states the great curfew for weekends. Yeah. Okay. Well, here is almost the same thing. We can't go out. It's been like two months that we have this panic state. And if people can, actually, they work from home. If they can't, they simply don't work. And people usually complain that it is very boring for them. And because of this, many people also don't respect the rules, unfortunately. So, I think this is the reason why we have now 117 dead people. And more than 5,000 people are sick because of this virus. So, it's really scary situation. And therefore, I think all musical events, such as Trumpet festival in Lucha, such as probably Belgrade beer fest, everything is going to be cancelled. Yeah. Sport is cancelled. Um. We don't know for US Open if it is going to be cancelled because of this. Yeah. Yeah. I think we all got tired of talking about this situation. Yeah. See, yes. See that all peoples have to stay at our home. and, yeah, all we got tired of talking about it. Yes. That's true. That's true. That's true. Hopefully, this room will be, everything will be gonna, will be good. But, I don't know, what can I say right now. Okay. It's terrible. It's terrible. It's terrible. It's terrible. Let's just crop the fingers crossed. And, let's hope it's bad. And, I think, we don't say anything about that. Because, lots of, uh, suffers, lots of, uh, uh, lots of suffering people. Um, you know, they are, uh, yes, yes. It's terrible. A cutoff of a situation. Uh, I think, this, uh, would be, uh, uh, would be lasting, uh, until the last summer. Yeah. Yeah. Let's hope so. Okay. Well, now you're speak Turkish. It's a tea, it's a thing! Haha, yes. Anyway, the tea diagnosis is because it's okay. Why did you learn Italian procent? Good answer, man. You know, it's located very close to Japan and Russia very important for you. But anyway, you chose Latin Cantonoc US away. That's a great question. Yes. Quindi l'Italyanca, l'ho piace. Un po' di l'Italia all'Italia, tutti gli anni, l'Italia e l'Italia. L'Italia e l'Italia, l'Italia dell'Italia, l'Italia, l'Italia. L'Italia... ... Non mi piace molto, anche l'Italia. Ma l'Italia, l'Italia è l'Italia, l'Italia, l'Italia. ...수�uf zorundayım. Üniversitede okurken de İngilizce'yi ister istemez... ...öğrendik. Ama, tabi çok fazla İngilizce... ...practice yapmıyorum, açıkçası. Bunu itiraf ediyorum. Okumak, yazmak tabi İngilizce diğer dillere göre... ...öğrenmesi sanki daha kolay gibi görünse de... Bana göre dil işi birazcık sevmekle, merak etmekle alakalı. Senle çok başarılı bir öğretmensin. Çok başarılı bir dil öğretmenisin. Seni tanıdığıma gerçekten çok memnunum. Çünkü senin özelliklerin sadece İngilizce değil, diğer dillerde de özellikle Latin dillerinde İtalyanca, çok hakim olduğun İspanyolca, bence Rusça senin ikinci dilin, öyle tahmin ediyorum. Bu dillere hakim olman ve bunları sabırlı bir şekilde öğrencilerine aktarmaya çalışman çok güzel. Seni tanıdığıma çok memnunum. Dediğim gibi İngilizce zorunluluktan kaynaklanan bir dil. Konuşmayı veya iletişim kurmayı çok tercih ettiğin bir dil değil. İtalyanca ile veya ileride belki İtalyanca'yı ilerletebilirsem, biraz da İspanyolca ile yeni arkadaşlıklar kurmak, sohbet etmek daha çok hoşuma gider. Tamam, güzel. Ve neden İngilizce çok pek sevmiyorsun acaba? İngilizce, evet. İngilizce hayatımızın her yerinde. Türkiye'de de insanlar İngilizce öğrenmek zorunda. Neden? Özellikle iş hayatında yaptığı her türlü alışveriş için öncelikle veya yine yaptıkları seyahatlerde İngilizceyi bir ara dil olarak kullanmak için öğrenme zorunluluğu duyuyorlar. Hepimiz de öyleyiz. Bizim ülkemizde Türkçe sadece birkaç diğer ülkede kullanılıyor. Azerbaycan gibi, Türkmenistan gibi, belki diğer Özbekistan gibi ülkelerde Türkçe kullanılabiliyor. Ama dünya genelinde yaygın değil. Bu nedenle bizim gibi ülkeler genellikle İngilizceyi ikinci dil olarak küçük yaşlardan itibaren öğretmeye çalışıyorlar. Ama tabii dediğim gibi İngilizce şart, İngilizce yazışmak çok önemli. Konuşmasan bile bir şey yazman gerekir. İngilizce kaynakları okuman gerekir ki İngilizce kaynakları okumadan üniversiteden mezun olmak çok zor. Bunu kabul etmem gerekiyor. Üniversitede bir öğrenci olmak demek, İngilizce kaynakları okuyabilmek demektir bence. Ama sohbet için İngilizce mi? Ben kendi adıma söylüyorum. Yani I think değil. Madem İngilizce soruyorsun. Yani kesinlikle keyifli bir dil değil. Yani bana hitap etmiyor. İngilizce iletişim kurmak tabii ki zorunluluk. Ama eğer karşımda konuştuğum kişi İngilizce dışında başka bir dil konuşuyorsa, o dili öğrenip onunla iletişim kurmayı tercih ederim. Evet tabii ki. Merek etme. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Her zaman, yani her gün sadece İngilizce konuşunca biraz sıkılıyorum. Yani çünkü başka dilleri konuşmak istiyorum. Mesela Türkçe, mesela İspanyolca, mesela İtalyanca. O yüzden benim abim benimle her zaman İngilizce konuşmak istiyor. Ama o benimle her zaman İngilizce konuşunca ben onunla İspanyolca kullanıyorum. Ne güzel. Böylece abim İspanyolca da öğreniyor. Farkında olmadan. Evet, biraz. Yani çünkü gerçekten bizim için, polyglatory için sadece İngilizce kullanmak biraz sıkıntı. Yani sevmiyoruz. Çünkü yani herkes İngilizce kullanıyor zaten. O yüzden biz başka dilleri tercih ediyoruz. Evet, tabii şimdi ben açık söylemek gerekirse çok uzun zamandır İngilizce kimseyle konuşmadım. Yani tabii konuşmak, dil şöyle bir olay. Sohbet etmeniz lazım. Yüz yüze aynı Suzan'la seninle yaptığım gibi konuşmam lazım. Ama ben seninle İtalyanca ya da İspanyolca konuşmayı tercih ederim. Hatta bilsem Sırpça konuşmak isterim. Çünkü insanların kendi dililerine olan saygısı, kendi kültürlerine olan saygısı her zaman benim hoşuma gider. Yani bir Sırp'la Sırpça konuşmak, bir boşnakla boşnakça konuşmak, özbekle özbek konuşmak, ne bileyim bir Rum'la Rumca en azından bir iki kelime etmek benim hoşuma gidiyor. Benim bu yaşam felsefem. Tabii ki İngilizce ile herkes İngilizce konuşuyor ama bu bence İkinci Dünya Harbi'nden sonra Amerika'nın etkisi diyorum. Yani buna zaten kitaplarda da sanırım sen daha iyi biliyorsun. The American Effect diyorlar. Yani Amerika'nın İkinci Dünya Harbi sonrası Avrupa'da dünyada kabul ettirdiği bir lisan İngilizce. Ticari bir lisan maalesef öyle. Ama sohbet için bence çok daha güzel lisanlar var. Evet doğru soruyorsun. Tamam ve benimle çalışınca nasıl hissediyorsun kendini? I feel very comfortable. Yani gerçekten öyle. Sen bir kere yani you are good at it derler. You are good at this profession. Yani sen bu işte gerçekten çok iyisin. Seni hiç tanımıyorum. Hiç karşılaşmadık. Ama yaklaşık iki, iki buçuk ay oldu galiba. Üç aydır İtalyanca sohbet etmeye çalışıyoruz. Sen bana İtalyanca çok güzel şeyler öğretiyorsun. Senden çok şey öğreniyorum. Çok güler yüzlüsün. Bence sabırlısın. Ki sabır çok önemli. Evet. Ve yeniliklere, yeniliklere açık olmak, yeni şeylere açık olmak çok önemli. Seninle çalışmak hoşuma gidiyor. Umarım bundan sonra da bu şekilde devam ederiz. İnşallah. Evet inşallah. Hopefully. Como se dice inşallah in italiano? Perfavore. Bence. Non c'e. Non c'e. Loro dicono se Dio lo permette. Eh, 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 se Dio ha il permesso. Sì. Vero, 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 vero. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo. D'accordo. D'accordo, sì. Non c' transfronolo. Scusate, ma sì. Ok, e poi abbiamo scoperto il tema che abbiamo iniziato, anche la prima volta, sulla nostra gente e la relazione romantica tra le nostre persone. Beh, posso dire che anche i Serbiano sono praticamente tradizionali, come in Turquia. Quindi, per esempio, se vuoi chiamare una ragazza, anche più, 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 quindi è bene, se puoi avere una buona relazione con la madre, la padre e le altre famiglie. Ma, in generale, non è solo io, in generale, le persone di Serbiano sono molto parlanti, molto amici, molto amici, un po' più, un po' più, un po' più. Quindi... Io credo in questo, sì. Come dicevo, non è solo con me. Quindi, spero che tu arrivi qui e questo un giorno vedrai. E, in generale, ho visto che Serbiano non sono tanto romantiche, ma... non tanto, ma... Ma, in realtà, vogliamo mostrare con piccoli detali. Sì, come, per esempio, i ragazzi, che fanno la ragazza dove vogliono, o che fanno la ragazza, 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 sì. Ma, in generale, è un po' più difficile, perché le persone lavorano molto molto, le persone crescono professionale, le persone crescono, le persone crescono, le tecnologie, le telefono. Sì? Sì, sì, sì. Quindi, ci sono cose che rendono più difficili. E cosa è in Turismo? E anche se è vero che, le persone sempre scrivono, come... Why did you do this? Why are you with him? Ah! 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 Yapma! Don't do this! È vero? Cioè spedettiscono. è vero che, ma diciamo gran tempo devo dire di quello che della LikeĞ stagliare non diciamo oggi domani… Ah! Non prov이죠. Non lo faccio siamo. E allora perché, le O Gli tutti i tanti si Covid div... È vero che normalmente lo tengono in tutto questo è neve vi, a tutti i film dicendo. Lì, beginning già credo, questo asico complesso diverse senza personalizzare non diventi non provi. scusa sorry but this TV serie is not not actually true okay yes this is my opinion okay sorry okay I'm sorry but I don't believe this such a stupid TV say but yes some of them is very better uh-huh either yes but I think this TV story is not reflect all traditionals all behaviors traditional behavior of Turks directly to the region okay this is my opinion for example I'm talking about love talking about loved things loved things in this areas is a great motivation for how can I say what are you trying to say tell me with different words I'm sorry yeah for this talk about love the loved person loved things is a great motivation this kind of service but just only for audience audience I'm thinking about that but yes we are we all sorry we are not we are all talks a little bit impatient huh huh okay yeah yes impatient this is my this is my special special I'm sorry weakness 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 not witness this is my what would you say are Turkish boys afraid of coming finding a girl and like talking to her first and let's say starting her first are they afraid of of that or or not it depends on the characteristic or the of the person I think but the boys especially the boys always have to have to go go fast for affecting the the beautiful girl and the the beautiful girl and talking about this girl yes I think I think about well I will not exaggerate but let's say about 70% or something like these people from my country are generally very much afraid of starting talking with with a beautiful girl that they like because I guess they are always afraid of this what will happen if she rejects me I cannot stand it I will suffer all the time and stuff like that and they never they never think in this way what would happen if she accepts this yes so what and it's always necessary like to find some I would say interesting a nice way to do this yeah to convince the girl to be with him yeah so yes that's why I asked you what do you think the boys the boys the boys in Turkey we all are very relaxing people yeah and we all trying to speak you know firstly to this kind of girls every day for example the boys every day for example the boys using this computer and the applications in internet for communicating the other girls all around the world yes because the talking about love talking about love things is a great motivation for this voice we are and 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 I would say we are all we are all impatient people in Turkey not we are not afraid to speaking and we are not afraid to connecting these people I think I see lots of people on internet that we are trying to speak and we're trying to find the beautiful girls on internet because yeah 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 not not for me but especially my I see lots of lots of person not only guys but also the girls for example we turks we are always we are always like that impatient and and I we are always like that we are more energetic we are not afraid to afraid of speaking afraid of talking the other people we are we are love yes we are love connecting the other people whatever whatever you like whatever whenever you whenever you there it's it's Non è cambiante, sì, è cambiante. We are... We are... We came across the Turks in all over the world, and I can say that we Turks we love communicating and we love speaking to other peoples, other different peoples all over the world. I think we got some friends that communicating every day for different peoples all over the world, for example Trindad Tabacco, Puerto Rico, Venezuela, Russia, China. We are all speaking English for communicating with these people. Yes. Motivation always is finding a love, a great love. But it's... 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 It's stupid and more... I think this situation, Malta the situations also is less stupid and different for me. I think we can't... We can't... It can't find a really love, really relation on this internet. It's impossible, I think. because we catch a great love, such a good love, we have to communicate this person in face to face. And I... And... I think that... I can say... We... 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 Try... We try... We try to understand each other... Mostly better... In daily life. Yes. We have to... We have to... We have to... We have to... See... Their... Their life... In your home... In your office... It is... Not sufficient... To find a great love. It's not sufficient... Uh... Communicating these people... On internet... For... Catching the great love. Uh... I think... Uh... This is my... This is my idea. Yes, I... I agree. Because... Everything is... Mucks...